Nuovo RAV4 Hybrid, con 197 cavalli e fino a 20 chilometri con un litro, cambia il significato di potenza. Cinica, spietata e soprattutto stupefacente, è la cavese vista ieri pomeriggio a Lentini, dove i metelliani hanno superato nel punteggio e nella prestazione l'ormai ex capolista Sicula Leonzio. 3-1 il risultato finale a favore dei campani. A quel punto il gol su rigore di Ricciardo è servito ai lentinesi solo a rendere meno amaro il gusto del KO. Ora è la squadra di Longo che guarda tutti dall'alto. Il primo squillo del match è della Sicula Leonzio, in maglia verde. Passano tre minuti e Ricciardo mette palla al centro per l'Ia che va al tiro trovando la respinta di Conti. Il primo gol è però della Cavese. Al minuto 15, Ciarcià batte un calcio di punizione a sorpresa all'indirizzo di Danna, che va alla conclusione superando il portiere siciliano Biondi. 1-0 per la Cavese. I bianco-blu potrebbero godere di ampi spazi in contropiede, anche con i loro centrocampisti, ma la difesa metelliana si fa trovare leggermente impreparata quando al minuto 27, Gallon scatta sul filo del fuorigioco e da posizione non facilissima spara fuori bersaglio. Secondo gol per la Cavese al trentatresimo. Golia evita l'intervento di Orefice e mette al centro dalla fascia destra. Gabrielloni in posizione perfetta segna con un preciso colpo di testa. 2-0 per i Metelliani. Il Leonzio reagisce pochi minuti più tardi. Incertezza di Galullo e Gallon si incunea prima di effettuare il tiro, ma Conti è attento e rispinge. Con le immagini passiamo alla ripresa. Errore di Orefice a centrocampo e contrattacco affidato a Danna che rimedia solo un calcio d'angra. Cavese è più ficcante nelle situazioni di contropiede, tanto che su un altro errore in palleggio dei siciliani viene nuovamente innescato Simone Danna ed è il portiere Biondi che stende l'attaccante bianco-blu. L'arbitro Gualtieri di Asti concede il rigore e ammonisce Biondi. Dal dischetto il nuovo entrato di Deo segna il 3-0. Potrebbe arrivare il quarto gol se Alleruzzo non colpisse il palo e se Biondi non facesse il miracolo su Rossi a 10 minuti dal novantesimo. I siciliani sono virtualmente battuti ma non tirano i remi in barca. Nel recupero Assenzio si procura un rigore per fallo commesso ai suoi danni da Galullo. Dal dischetto trasforma Ricciardo. Finisce 3-1 per la Cavese che sfrutta la concomitanza dei risultati e si porta in testa al girone I della Serie D. Queste le impressioni prima di Giampaolo Ciarcià e poi dell'allenatore Emilio Longo ai microfoni di Radio Cava New Generation. Abbiamo fatto una buonissima partita, anzi una grande partita che è venire a giocare a Lentini contro la Leonze e vincere 3-1. Tra l'altro il gol l'abbiamo preso al 95esimo all'ultimo secondo e non era facile. No, ma noi non ci siamo mai nascosti. Io penso che la squadra deve continuare a fare quello che sta facendo. Non ponendosi limiti e obiettivi che vadano oltre quello della partita successiva. Noi adesso dobbiamo pensare alla partita con la frattese di domenica, a cercare di mercoledì, a cercare di passare il turno in Coppa.